era una partita per noi questa era un'opportunità come dicevi tu la miglior difesa e il miglior attacco uno dei miglior attacchi insomma siamo giù di lì e l'abbiamo interpretata nei migliori dei modi e sapevo che loro giocavano una certa maniera probabilmente le mancava uno dei due centrali e ci siamo l'abbiamo subito capito e ci siamo rimessi come sempre la mia squadra è una squadra d'utile può giocare in qualsiasi modo e in qualsiasi modo gioca la interpreta nei migliori dei modi oggi è andato tutto per il meglio quattro gol alla pisana che secondo me è una squadra che arriverà fino in fondo e a miei ragazzi posso dire solamente bravi perché sono ogni partita mi stupiscono sempre come dicevi tu e mi fa piacere ho ricevuto i complimenti ma io i complimenti come dico anche agli altri alla dirigenza non ci faccio niente perché io voglio vincere sì perché questa come ripeto era un'opportunità perché vincendo questa e ipoteticamente vincendo le prossime due partite potevamo puntare lo dico schiettamente al quarto posto con dei con dei risultati che potrebbero incastrarsi e non sarebbe male sinceramente e con il mio voglio vincere chiaro poi si può anche perdere nel calcio però io vengo qui per vincere punto